Ciao Giampiero, benvenuto! Bentrovati! Bentrovato e benvenuto! È veramente, lasciamelo dire, quantomeno insolito vederti lì e io sono felice di questo. Avessi passato la mia vita qui non mi avresti chiamato. È vero, è proprio vero. Che cosa, Giampiero, tu che sei giornalista, scrittore, penna raffinata, che cosa ti fa guardare con occhio curioso questo programma? Beh ragazzi, non è mica poco. È una cosa assai particolare, è una cosa propizia a dei giovani che stanno entrando nella vita, che stanno irrompendo nella vita, che un po' devono trovare se stessi un ruolo, un linguaggio. E ti confesso che per me è una grande responsabilità essere all'altezza di questi ragazzi giovani. Eh sì, perché l'attesa è tanto. Non apparire, comprendimi, come un bisnonno noioso. Certo, è difficilissimo, ma so che la tua mission sarà sicuramente, riuscirà di sicuro, se no non ti avremmo voluto con noi.